In casa io e lui, io non mi accorgo che, che fuori è inverno ormai, la stanza è tanto calda, non penso mai che oltre la finestra per lui, in quella nebbia è un'altra estate e porta un caldo, un caldo, un caldo, un caldo, un caldo, un caldo, lo vedo ma non c'è, è andato via da me, sta raggiungendo a Tripoli. Ma Tripoli cosa è il primo nome che mi viene in mente, se lo immagino lontano dove non so, in cerca di battaglie perché, perché ogni uomo senza battaglie non può sentirsi un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, e quando un uomo va a vivere di più, ma se ritornerà, un ferito lui lo sa, che qui mi troverà. Ed io sono già felice, se penso che, in questa storia anch'io ci sarò, ma fuori è inverno, la nebbia è nebbia, in questa stanza ritorna caldo, 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 e in casa io e noi, e non si ne accorto che, ho pianto tanta Tripoli.